Io non me ne andrò da quest'ufficio finchè lei non mi reintegrerà. Credi che sia una buona idea a fare il prepotente con me? Io sono uno storione. Ti rendi conto che stai confermando la mia tesi? Che ti comporti da immaturo e dimostri che non sai come comunicare e che non sai controllare le emozioni? Io sono uno storione. Io sono, io sono uno storione, io sono uno storione.